Allora, siccome la mia vita è cambiata grazie a fortuna, caso, diciamo destino. Ho avuto modo di conoscere un personaggio che era un contattista siciliano, che parlava con i signori della fiamma, che sono esseri così evoluti, che oggi hanno in mano e conoscono alla perfezione le leggi che governano la creazione e sono in grado di spiegarle e di insegnarle. Quindi questo studio che io iniziai oltre 26 anni fa mi ha portato a trasformare radicalmente non solo la mia vita ma anche me stesso, che ero uno come tutti, anzi forse pure peggio, che vivevo per avere soldi in tasca, belle ragazze di fianco, farmi gli affari miei, divertirmi. Non avevo altre ambizioni nella vita, invece l'incontro con questo personaggio, lo studio di queste leggi, lo studio dello stato del mondo in relazione a queste leggi e alle cause che ho scoperto, mi hanno fatto sì che io potessi avere potere sulla mia vita e cambiarla a prescindere da tutti quelli che mi stavano intorno. Non avevo bisogno di essere in gruppo, basta che lo faccio io. Infatti siamo partiti in tanti e mi sono ritrovato quasi solo, perché la maggior parte lungo la via non ha accettato i grandi sacrifici di mutamento che comporta cambiare la propria vita. Perché la prima cosa che accade quando tu metti in mano a queste cose è che ti si rivoltano contro tutti, anche il gatto. Non ti ricordano, ah che fai, cioè prima ti faceva le fusa, ma oggi credi agli uff e ti graffia. Quindi i primi contro cui ho dovuto combattere erano i miei amici, Filippo, pensavano che io mi ero ammalato psichiatricamente, cioè ero uno da prendere e mettere la camicia di forza e portare in ospedale. C'è impazzito, si licenzia delle ferrievie dello Stato, ma sei pazzo. Certo mi licenzio perché sono stanco di prostituire il mio preziosissimo tempo per fare qualcosa che non mi interessa, perché il mio tempo è preziosissimo così come il vostro, abbiamo un tempo limitato tra nascita e morte. Quindi se questo tempo lo spreco solo per avere fogliettini di carta, l'ho buttato via. Poi magari fogliettini di carta per lavorare e poi l'industria dell'intrattenimento, cioè loro hanno creato un ciclo chiuso, la ruota del cricetto e ci fanno correre sempre lì. Per andare dove? Da nessuna parte. Chi vive di calcio non va da nessuna parte, è solo uno che butta via nel cesso la sua vita a guardare 22 ignoranti super pagati che tirano calci a una palla. E' la verità. Io amo lo sport, ma quale valore aggiunto porta nella mia vita se lo Scudetto lo vince la Juve, il Milan o il Cagliari? Ma che me ne frega, al massimo farò sport, non fruitore passivo di sport con la pancia gonfia dalla birra a litigare col vicino di casa, non ci parliamo più, lui è interista, va a quel paese, che la Juve è meglio. Follie. E l'industria del calcio con questi cronisti e fanno le tribune sportive, ma perché cercano di capire le ragioni del perché il tiro dell'ultimo imbecille super pagato invece di finire nel sette è finito nel palo, ma forse se il piede lo metteva così, sì ma bisogna considerare, aveva piovuto, ma che me ne frega, ma perché non ragioniamo sul fatto del perché la società italiana va così male, del perché siamo al terzo Presidente del Consiglio non eletto in regime di illegalità perché la Corte Costituzionale ha detto che questo governo è illegittimo, ma perché non ci poniamo queste domande e non imponiamo noi popolo perché siamo noi che li manteniamo, quelli ci hanno i pasti gratis, sempre, ci hanno i pasti gratis e glieli paghiamo noi in continuazione. Nuove tasse, via nuove tasse, ad esempio la raccolta differenziata, quello che noi facciamo i comuni lo vendono, allora io faccio un lavoro per te, t'ho votato io signor sindaco e cari assessori, quindi tu ti ciuli tutti i soldi della vendita dei rifiuti differenziati e poi mi ci metti pure una tassa. Io voglio vedere i conti, come io ti eleggo sindaco, poi tu incominci a pitturarmi di strisce blu tutte le strade, devo pagare il suolo per metterci la macchina sul mio territorio e ti ci ho messo io lì. Un attimo, c'è qualcosa che non quadra in quest'andazzo, io t'ho votato e fatto sindaco perché tu dovevi amministrare a mio vantaggio il comune, non a tuo vantaggio e della tua cricca di lestofanti che si intascano i soldi, allora se io ti faccio la raccolta differenziata e tu incassi io non te la pago la tassa sulla raccolta rifiuti, a meno che tu non mi presenti il rendiconto di tutto il giro di affari che avete creato, lo chiediamo? Non lo chiediamo, mai. Ci arrivano fogli, Equitalia, tu leggi, porca, 2000 euro di... Non so, però siccome c'è paura perché Equitalia sembra che... non so cosa c'è dopo, ma poi vai a vedere, non è firmato, quindi io potrei tranquillamente a casa mia fotocopiare fogli e collogo Equitalia, mandarle a pioggia un po' di qua un po' di là, sono sicuro che incasso, basta il nome, terrore, paura, eppure quell'altro non ha valore legale ingiuntivo, non è firmato, quindi di fatto non va pagato perché è illegale, ma siccome io non conosco la legge non so come difendermi, è tutto così.